Signore e signori buonasera, io sono Surry, questa è Minecraftita e nell'ultima puntata abbiamo finalmente realizzato il piccone definitivo. Abbiamo efficiency 5, unbreaking 3, fortuna 3, manning. Un piccone più forte di così non si trova, cioè può diventare più specifico per alcune cose, sicuramente, ma a livello di mining è il top del top. Più di così magari si può ambire alla nederite e va bene, ci sta, perché anche la nederite avrà il suo ruolo in questa serie. Per il momento però voglio fare una cosa, voglio prendere una grande quantità di carbone e andare a trovare tanti diamanti, perché mi è rimasto un po' qui. E so che come a me, anche a voi, perché ho letto alcuni commenti che mi dicevano, Surry però, devi provare a salire un po' di più, a scendere un po' di meno, insomma, mi avete dato dei consigli sui tuoi altri diamanti. O secondo me il consiglio migliore è stato quello semplicemente di non fare tunnel ogni tre blocchi, ma di farli ogni due. Che sì, ha assolutamente senso, non so perché l'ho fatto ogni tre, mistero della fede, perché sappiamo tutti che è più efficiente farlo in quell'altro modo. Però, boh, andata così, che ti devo dire. Qua abbiamo efficiency 2 alla grande, io direi andiamo a raccogliere prima un po' di legno, così abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per chiuderci un attimino lì. E troverete diamanti, voglio vedere questa fortuna 3 quanto è migliore della fortuna 2 e soprattutto voglio farmi un po' un backlog di diamanti, perché abbiamo degli smeragli, abbiamo ferro, quanto ne vuoi, cioè ferro ne troviamo. Non abbiamo più diamanti, li abbiamo usati tutti, cioè abbiamo zero diamanti. È una cosa che in Minecraft non è indispensabile avere diamanti, chiaro, nel senso non è che ti cambia la vita. C'è già l'armatura, c'è già gli strumenti, bro, stai facendo di scappare? Stai facendo di scappare dalla valla incantata? Boh, è vero che non valla incantata, ma anche la tua prigione è questa. No, 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 via, vai di là, bravo. Ehm, stavo dicendo, abbiamo i nostri strumenti, abbiamo la nostra armatura, tutto fantastico. Però, se metti caso domani io muoio di nuovo, è un casino. Quanto è alto questo albero? Questo è davvero altino, eh? Vabbè, fortunatamente abbiamo efficiency sull'ascia, quindi andiamo ancora più veloci. Stavo dicendo, è un problema non avere... Non è un problema perché non ti leva nulla di funzionale, però è proprio brutto essere in un mondo di Minecraft, più o meno avanzato che sia, e non avere dei diamanti. A un certo punto arriverà un punto, mi sono ripetuto, però va bene, in cui non avere delle nederite sarà un problema. E dirai, ah, cacchio, andiamo a fare un po' di mining in nederite perché ci mancano i nederite. Però il diamante è proprio la base di tutto questo ragionamento. Senza diamanti, che senso ha avere un magazzino? Sì, è vero, ci metti la cobblestone, ci metti il legno, tutto ciò che vuoi, ma non c'è i diamanti, e allora basta, poi c'è, puoi anche disinstallare il gioco. Che senso ha? Un po' troppo pessimista? Forse un pochino sì, però i diamanti hanno un fascino incredibile. Io mi rendo conto dalle copertine dei video. Quando metto un diamante in copertina nel video, c'è sempre un turnover generale più interessato. E anche se il diamante alla fine non è la cosa più potente del mondo, tutto il resto, però è il diamante, è quella cosa che devi trovare, che devi avere nel tuo mondo. Non lo so, ha un che di davvero bello. E quindi oggi andiamo a cercarne altri. Andiamo a cercarne, non altri. Andiamo a cercarne, perché non ne ho, che è un problema. Allora, noi qui ora abbiamo una marea di legno. Direi che ci portiamo indietro anche una marea, non una marea, però una buona quantità di carbone. Farei un pizzoppino anche a prendere un po' di carne. Facciamo un po' un giro di ronda, vediamo quanto ferro abbiamo da parte e quanta carne riusciamo a recuperare. 52, 38, 9. Vabbè, potrebbe andare peggio. Potrebbe andare anche meglio, eh. Però giustamente l'ho svuotato proprio nell'ultimo episodio, quindi ci sta che non sia il massimo del suo potenziale di storage. Allora, facciamo amoreggiare le sis qua. La mia sorella, vieni qua. È il momento dell'orgione divertente. No, no. Ce la fanno? Ce la fanno. Ok, 20 pezzi di carne direi che ci bastano. Ora, l'abbiamo notato tutti che andare a cercare delle super cavernone è bello e ti dà diversi spunti. Non solo di materiale, ma anche proprio di cose che puoi trovare, tipo, vabbè, ora abbiamo trovato il dip random delle altre puntate, però nel senso puoi trovare strutture, miniere, non lo so, delle mineshaft, oppure dei dirupi, delle ceste, insomma, è molto interessante. Ad ogni modo, secondo me, non può battere lo strip mining, perché lo strip mining può essere un po' burioso, diciamo, tedioso, noioso. Noioso può essere la parola giusta, però è quello che, a confronto tra rischio e ritorno economico, mettiamo, del tuo investimento in tempo, ha un rapporto migliore. Voglio dire, se io vado a fare super mining nelle cavernone quelle enormi che fanno i giri così, bello, bellissimo, bellissimo, ci torneremo sicuramente. Però quanti diamanti avevo trovato l'altra volta? Tipo sei? Sette? Perché ne avevo trovati due o tre ore e con fortuna due mi aveva dato qualcosina in più. Però non è che fosse chissà quale wow di magazzino di diamante che mi portavo a casa. Invece se ci mettiamo lì facciamo un po' di strip mining cazzuto, ma cazzuto c'è cazzuto, c'è lì mentalità, 0% chiacchiere e 100% mentalità, uno si mette lì, secondo me riusciamo a portare a casa oggi, se abbiamo fortuna e troviamo abbastanza ore, ma anche un mezzo stack di diamanti, ma forse anche uno stack, ma la butto lì, ma se trovi i diamanti giusti con fortuna 3 è un secondo, ma è un secondo eh, te lo dico. Giù, scendiamo nell'inferno di Minecraft, e andiamo, che poi tra l'altro con tutti questi blocchi nuovi che hanno messo, che non conoscevo prima, di deep slate, così, dà un po' un'impressione più di, non saprei, di morte, di caos. Allora, vogliamo recuperare questi blocchi centrali che abbiamo detto che non abbiamo usato? Potrebbe avere senso eh, intanto qua ci mettiamo un secondo, scavo giusto finché non trovo la lava, perché in tutti questi settori qui, mi avete detto anche, Suri, vabbè, metti la torcia nella mano secondaria, non devi piazzarla, ti fa luce, sei contento, ma non vorrei mai girarmi e trovare, ecco, ad esempio qua possiamo già fermarci, e trovare il fantomatico creeper, è vero che ho l'armatura completa, però, beh, ma non è simmetrico, ah sì, ok. Dicevo, tutte queste linee qui, che stiamo facendo, sono tutte state fermate da potenzialmente della lava, non mi sembra di essere andato, di essere arrivato a un punto in cui senza lava mi sono fermato, e prima o poi qua si trovano sempre diamanti, mi avete detto, forse, forse è meglio scavare un po' più in alto, così non c'hai la bedrock, però questo è esattamente il blocco migliore dove scavare, e cioè meno 59 dovremmo essere, esatto, perché, proprio perché la bedrock spona da questo livello qui, quindi qual è la particolarità? Il fatto che, essendo questo il primo blocco utile per la bedrock, questo e questo, sono i livelli in cui è più probabile trovare diamanti, senza avere la bedrock di mezzo, ed è per questo che, se vai sulla wiki, comunque, se guardi qualche tutorial, ti dicono, questi sono i blocchi migliori dove scavare, alcuni commenti dicevano, no, vai a 54, 55, no, è meglio scavare nelle caverne aperte, cioè, ognuno poi c'ha il suo stile, con cui preferisce fare mining e trovare diamanti, a me ad esempio piace non trovarne, come potete vedere, ecco qua, anche qui direi che possiamo chiamarla fine, cioè, davvero, scherzando la cosa più importante è trovare diamanti, quindi uno può fare come meglio crede, ma deve portare dei diamanti a casa, se non porto i diamanti a casa oggi, raga, è grave, cioè, è grave, ma è anche grave, anche quella che abbiamo fine, no, ci sarà qualcosina, che poi in realtà, avendo scavato qui accanto, questi sappiamo già che sono diamanti o meno, lo stavo cercando praticamente qua sopra, però non so se vale la pena, cioè, alcune di queste linee vanno abbastanza in là, no, andiamo a scavare nuove linee, dai, cioè, non è male, come ragionamento, ci sta, alla fine, negli ultimi puntate, i diamanti che abbiamo trovato, li abbiamo trovato in questa linea qui sopra, però, ci stiamo precludendo di trovarne altri lateralmente, che è un po' un peccato, sì, infatti, andiamo avanti, eeeh, vediamo che qui sopra c'è un diamante, ok, non c'è, vediamo che qua sopra c'è un altro diamante, non c'è, e allora a questo punto facciamo uno, due, e scaviamo così, uno, due, e scaviamo così, e stessa cosa, di qua, e di là, in questo modo prendiamo un blocco, un blocco, un blocco, un blocco, vediamo tutti i blocchi possibili, immaginabili, che non è male, ecco, bello anche questa cosa, che se regolo bene la camminata, posso non fermarmi mai, cioè posso scavare come una macchinetta, sembra davvero di essere, non lo so, non ne ho idea, voglio fare un paragone, ma pericolo, allora, la rete non ci interessa particolarmente, ma la prendiamo per l'esperienza, perché così ripariamo il nostro piccone, ok, quanto ripariamo, non lo so, però se troviamo abbastanza roba, sicuramente potrebbe essere interessante, in tutto questo, giustamente, non sto appiazzando le torce, che è una cosa positiva, perché risparmiamo carbone e l'igno, però l'igno possiamo avere quanto ne voglio, anche il carbone possiamo averne quanto ne voglio, però, è un po' più complicato, bisogna andare a livelli più alti, per fare il mining di coal, oddio, un po' psichedelica questa roba qua, sembra di andare tipo con un effetto, non lo so, guarda qui, cioè sembra di andare tipo in slow motion, c'è tipo un effetto vignetta, non lo so, giustamente se non metto le luci, grazie al caso che c'è l'effetto vignetta, allora, ripeto, in teoria non serve piazzare tutte queste torce, però, dai, la sicurezza che qui non spuni no mob, neanche in futuro, secondo me, vale la spesa di qualche pezzo di carbone, anche se non abbiamo ancora trovato neanche un diamante, guarda che ci vuole poco, per dare animo a un operaio, a un soldato come me, tu, dammi una piccola vella di diamanti, tre pezzettini, cinque se proprio vuoi, mi fai vedere che mi dai 20 diamanti da quella roba là, e io poi sono carico a molla, cioè te ne trovo altri 100, oppure anche da redstone, dai, dammi dei diamanti dei tuoi redstone, niente, comunque con fortuna abbiamo spaccato cosa, otto ore, e abbiamo due stack di redstone, mica male, mica male, mi sento un po' una talpa, perché sto scavando, attraverso dei blocchi, che non mi stanno dando nulla, ma assolutamente nulla, è già da un pezzettino eh, è già, cioè, poi ci sono i tagli nel video, quindi uno non percepisce da effettivamente il tempo vero di scavo, però porca vacca, dai, non mi stai dando niente oggi, si è offeso, ho fatto qualcosa che ha fatto offendere Minecraft, non lo so, magari la morte è stata un po' troppo stupida, allora Minecraft ha deciso, no, è vero, poi mi ha fatto ritrovare tutti, tutto il materiale in un episodio, cioè, mi sono rifatto tutte le mature di diamante, non lo so, c'è qualcosa che non va in Minecraft, guarda che tunnellone enorme abbiamo fatto, non c'è neanche un diamante per ora, neanche uno, ora non so se questa è la direzione giusta, ma se continuiamo a scavare così, raga, io ve lo dico, ritroviamo il deep, dark, come cazzo si chiama, e invece abbiamo trovato la fine, abbiamo trovato la fine, va bene, e abbiamo sprecato, cioè sprecato, abbiamo investito, chiamiamolo così, chiamiamolo investire, uno stack di torce solo in questo tunnel, per far capire quanto cazzo è grande, cioè, è enorme, e non abbiamo trovato neanche un diamante, vuoi vedere che a random ne troviamo un po' così? Per forza, non ci credo che non troviamo diamanti qui, dai, ferro, ferro a questa altezza, boh, vabbè, vedi, due pezzettini ma la T6, bello, bello, devono essere diamanti quelli però, o qualcuno è entrato nel mio mondo, e ha rimosso tutti i diamanti, e perché, cioè, un tunnel così grande, è davvero difficile, che non mi abbia mai dato almeno un diamante, poi, non so se avete notato, ma ci sono tantissimi di questi sporadici blocchi, uno qua, uno lì, singoli, però ce ne sono, a sto giro neanche uno, ma, eh, preserviamo da quest'altro lato, qua c'è un nostro tunnelone, facciamo un po' più grande il tunnelone, così sappiamo che è il tunnelone, ha senso? Sì, credo che lo possa avere senso, come frase, e andiamo di qua, che ti devo dire? Facciamoci altre torce, che non piazzerò, perché non le piazzo, altrimenti siamo punto a capo, e mi tocca fare altre 8000, guarda, piazzano solo all'inizio, giusto per evitare che qua, possano spawnare dei mob, che poi vanno a finire nel tunnelone generale, quanta rezzo mi stai dando? Eccola, dimmi che è più di uno, due, via questa roba qua, via, dimmi che c'è della lava qua sopra, tre, buono, blocchia, cazzo tutta sta lava però è pericolosa, cioè non gli bastava darmi dei diamanti, uh, quattro, quattro buono, non gli bastava darmi dei diamanti, devo renderlo per forza complicato, se no non è contento, allora cerchiamo di far sì che questa cosa abbia del senso, ecco tipo così, prendiamo di qua, no merda, ok, creiamo un piccolo buffer, merda, di qua c'è, madonna, è tutto lava, è un lago enorme, allora aspetta, scaviamo così, di qua vi metto che è sempre lava, giusto, facciamo fare così, possiamo fare così, ok, allora, forse, c'è un problema solo là sopra, eh sì, allora questo sicuramente possiamo prenderlo, giusto, c'è un altro là in alto, eh che fai, lo lasci lì, non puoi lasciarlo lì bro, missione recupero diamanti, ok, merda, allora prendiamo prima questi qua che sono accessibili, giusto, cominciamo così, così, non voglio neanche sapere quanti diamanti mi sta dando, lo scopriremo dopo, e, diciamo così, no, no, ho bruciato diamanti, sono sei, maledetto, dammi, no, ho bruciato anche quello, maledetto, oh, cioè, capito, Minecraft, che cazzo sta succedendo, c'è, ma i diamanti, me ne fai bruciare due su sei, due su quattro, neanche, qua c'è un po' troppa lava per i miei gusti, c'è un po' troppa lava per i miei gusti, torniamo indietro, sei diamanti, vabbè, meglio di niente, eh, però, cioè, siamo contentissimi, eh, già di sei diamanti, però abbiamo rischiata lì, era un secondo, eh, cadeva un blocco di lava, andiamo appunto a capo, ho perso tutto l'ecopaggiamento, solo che a sto giro non abbiamo diamanti, finita, vabbè, possiamo provare di qui, magari, il lago di lava era più sulla destra, e meno da questo lato, ok, sento della lava a destra, forse è la lava che abbiamo incontrato poco fa, cerchiamo di superarla, uh, aiuto, tanta lava, porca vacca se è tanta lava, fermo un po', ok, off limits anche di qui, ci ho provato, eh, non potete dirmi che non ci ho provato, ormai ve l'ho detto raga, io non mi muovo da qui, finché non abbiamo, una buona quantità, di diamanti, non so neanche quant'è una buona quantità, ma per me una buona quantità è tipo, almeno 24, 26, non mi ricordo quant'è il numero, per, per fare una nuova armatura, 24 dovrebbe essere il numero di diamanti, però poi, cioè, servono anche per fare i picconi, la spada, cioè, mezzo stack di diamanti, do bruci, ah, no, uno singolo, due, deve dire che c'è il terzo, no, sotto, ok, vedi, qua c'eravamo il tunnel, abbiamo un passo, devo che c'era un altro lì, ok, sono solamente due, quindi da sei, ah, sono tre, ah, da sei passiamo a nove, buono, tredici, ah, questo è ciò di cui stavo parlando, un singolo blocco di diamante che ce ne dà ben quattro, sì, grazie, è quello di cui parlavo prima, dammi un po' la carica, fammi venire la voglia, figa, di trovare altri diamanti, che torniamo a casa, tappezzati, voglio tutto l'inventario pieno, bro, non hai capito, cioè, voglio tutto l'inventario pieno, tutto, sì, altri diamanti, da tredici a quattordici, dici a sette, venti, ventidue, vedi, questo era il famoso, è il tunnel, tunnel in espresso, cioè, se non fosse stato per quel commento, l'avremmo saltato, perché il primo, il primo tunnel che abbiamo creato di lì, io l'avevo fatto, largo tre, evidentemente era un errore, era un errore, sì, guarda quanti me ne sarei persi, bello, bello, bellissimo, quanti sono, mamma mia, mi emoziono così, bro, bro, così mi fa emozionare, va anche sopra, no, ok, non va sopra, schiamo tutto tondo, sono otto diamanti, vuoi darmi il nono, eh, eh, cioè, è incredibile il fatto che abbia scavato un tunnel in fondo qua, un tunnel anche di qua, e proprio nel mezzo c'erano tutti questi diamanti, cioè, bro, parliamone, parliamone, cioè, qualcosa ci deve essere, qualche tipo di problema c'era, va bene, da 22 passiamo a, questi sono tanti, questi sono tanti, raga, 35, 38, 40, 44, ah, sì, sì signori, questa è la vera potenza del Fortuna 3, mamma mia, che bello, che bello, che bello, che bello, incredibile, poi ho visto, mi tagate tanto nelle storie, mi fa molto piacere, che guardate Minecraft, la serie del 7, anche, va bene, nei posti più disparati, e li riposto sempre, e va bene, ma tantissimi anche, tipo che in gruppo, vi mettete a guardare Minecraftita, quindi, tanto un salutone, a tutti quelli che vanno Minecraftita, sempre, però, anche a chi, li guarda in gruppo, potete fare dei giochi, secondo me, cazzata totale, perché per questo episodio, nel senso, appena vedi, quanti diamanti ci sono, fai il toto diamante, no? Come quando vai al ristorante, fai il toto conto, no? Che provi a indovinare, quanto, tipo ora, provi a indovinare, da questo batch di diamanti, quanti ne potrebbero uscire, sono solo due, dirai, ma, ci sarà quello più pessimista, che dice, no, ne escono solamente due, ci sarà quello un po' più ottimista, che dice, no, ne escono otto, vediamo, da 44, passiamo a 49, ne sono usciti 5 da 2, signore e signore, sì, magari conviene mettere in pausa, perché sono anche un po' troppo veloce, comunque, incredibilmente, negli ultimi 3 minuti, abbiamo svoltato questa puntata, siamo passati dall'avere 6 diamanti, ad averne 49, questa è la potenza di fortuna 3, con fortuna 2, saremo forse a 30, all'incirca, comunque, una buona percentuale in meno, magari, sì, 30, 35, comunque, ne avremo molti, molti in meno, così, se moriamo due volte, possiamo rifarci tutto, due volte, non male, incredibile comunque, tutti i diamanti che non ho trovato in questo episodio, erano tutti in questo tunnel qua, tutti, oh, tutti, aia, 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 ok, abbiamo terminato questa linea, direi, in maniera, anche, abbastanza, egregia, siamo contenti del risultato, 49 diamanti, è una bella cifra, ci piace, ah, suonato al binario, ho trovato 49 diamanti, cacchio, è tantissimo, è tantissimo, ci piace, piazziamo un po' di torcine, e voilà, abbiamo un inventario pieno, per lo più di redstone, e poco ferro, però, oh, è questa roba che sto prendendo, e perché proprio salendo queste scale, mi trovano davanti, 8 creeper, che contemporaneamente esploderanno, mi faranno perdere tutto, compresi, i 49 diamanti, non lo so, ho questo presentimento, fortunatamente è tutto illuminato, quindi, non dovrebbe succedere, ecco, il famoso, non succede, ma se succede, sono cazzi amari, infatti qua, perché non ci abbiamo, un'altra torcina, messa tipo, qua, per rendere il tutto, un pochino più sicuro, eh, un tintinnino più sicuro, non nulla, ok, ok, pure notte, fantastico, andiamo a dormire, va bene, facciamo un resoconto, della situazione, abbiamo una marea, di blocchi, tipo il taff, non so se voglio metterlo qua, onestamente, ci sta che lo mettiamo qua, il taff, quella è la gravel, allora si, resoconto, non male, abbiamo quasi 4 stack, di redstone, dei pezzettini di ferro, che tanto schifo, sempre non ci fanno, e poi ben 49 diamante, che a questo punto, io per non sapere, né leggere né scrivere, piazzerei all'interno, all'interno della super cesta, della morte, la famosa ender chest, fantastico, ma signore e signori, per questo video, è tutto, vi ringrazio tantissimo, per la visione, noi ci vediamo domani, alle 7, con la prossima puntata, di minecraft it, ciao a tutti, a tutti, Grazie.